Il professor Adriano Paolella, per chi non lo conoscesse, è architetto, docente di tecnologia dell'architettura all'Università di Reggio Calabria e consulente scientifico di Italia nostra. Ci parlerà delle comunità e delle loro risorse, che è un po' anche il tema centrale, se vogliamo, del nostro progetto. Parliamo di risorse, parliamo di comunità e dei rapporti tra risorse e comunità. C'è un problema, ci abbiamo un problema, vai, perdiamo questo problema. Il problema è che noi, come specie umana, consumiamo più di quanto è disponibile nel pianeta come risorse. Questo è valentato in diverse maniere. Due più visive di tutte, più facilmente percepibili, sono la collagazione del giorno del sovrasfruttamento ecologico della Terra, ossia il giorno in cui si iniziano a consumare risorse eccedenti a quelle prodotte annualmente dal pianeta. Questo giorno, fino al 1970, non c'era. Nel senso che fino al 1970 l'umanità consumava quanto era prodotto dal pianeta. Dal 1970 è incominciato ad esserci, quindi abbiamo finito le risorse prima della fine dell'anno. Questo giorno è andato sempre più anticipandosi, e quelle sono praticamente la discesa, il corso e l'anticipo, perché vedete in questa tabella, fino ad arrivare l'anno scorso a luglio e quest'anno... L'anno scorso, scusate, è un po' più tardi ad agosto e quest'anno di nuovo a luglio. Questo vuol dire che noi a luglio abbiamo finito di consumare le risorse eccedenti. Questo vuol dire in un'altra forma che noi abbiamo bisogno, come dice l'impronta ecologica, di un pianeta virgola 7. Che cosa vuol dire un pianeta virgola 7? Che noi non solo consumiamo, ma degradiamo, emettiamo del gas a serra prima di tutto, ma tante altre emissioni, che il pianeta non riesce a recuperare. E per cui tra consumo di risorse e degradato delle risorse avremmo bisogno di molto più spazio fisico di quello che c'è. Sono indicatori questi, e non è che sono indicatori scientifici, però ci danno facilmente la comprensione, ci vanno aiutando a comprendere come noi stiamo consumando più di quanto abbiamo a disposizione. Andiamo a pressa. Quali sono le cause di questa vicenda? La prima causa di tutto è quello dell'aumento della popolazione e il contemporaneo aumento dei consumi. Voi vedete l'aumento dei consumi sotto, nella tabella più grande, vedete l'impennata dal dopoguerra, dal 50 fino al 2009, e vedete invece nel grafico superiore l'impennata dell'aumento della popolazione. La combinato e disposto, come direbbero gli avvocati, dell'aumento della popolazione e dei consumi sicuramente è uno dei nostri problemi, una delle nostre cause. Andiamo a pressa. Qual è la seconda causa? La seconda causa è che noi spesso non facciamo, intendo quando dico noi, intendo la specie, l'umanità, non sto dicendo una specifica situazione, perché è molto comune. Noi non facciamo delle scelte, ma assistiamo a dei fenomeni. Quindi a un certo punto noi sappiamo che le aree urbane, un cittadino medio dell'area urbana consuma molto di più, pro capite, di quanto consuma un cittadino di una città medio-piccola o addirittura di piccoli borghi, piccoli insediamenti. E sappiamo pure al contempo che la popolazione urbana sta aumentando, quindi aumentano multigualmente i consumi, fino ad arrivare al famoso 2050, dove le previsioni sono al 66%, ma nel 2014 il 54% della popolazione planetaria era già nei centri urbani. Noi questo qui lo guardiamo. Noi ogni anno facciamo delle statistiche dicendo oi boh, sono aumentate le città, oi boh, le megalopoli sono aumentate, oi boh, arriviamo a una città di 25, 30, 30 milioni di abitanti, supponendo che noi sappiamo anche un problema di risorse, e quindi il cittadino medio urbano consuma di più di un altro tipo di cittadino, ma abbiamo anche una massima dipendenza da parte degli abitanti delle città rispetto agli intermediari, ovvero sia voi, noi, in questo caso proprio noi, che partecipiamo a questo incontro, non possiamo avere l'acqua attingendola direttamente alla sorgente, ma dobbiamo avere un servizio che è un intermediario tra la sorgente e noi. Noi non possiamo smaltire i nostri difiuti direttamente, noi non possiamo andare ad alimentarci direttamente, perché ci sono delle grandi catene distributive che ci portano a mangiare in città. E questo aumenta la nostra dipendenza perché ci allontana dalla gestione di sé diretta delle risorse principali, primarie. Andiamo alla terza causa. La terza causa è che noi facciamo, in questo senso complessivo, un uso speculativo delle risorse. Questo è un grattacielo che è stato proposto da Pierre Cardin vicino a Venezia, che per grande abilità e capacità anche della nostra sezione di Venezia è stato bocciato, si è scomparso, per fortuna, momentaneamente è scomparso questo progetto. Se voi vedete in fondo quel caccolume marrone che sta lì fuori, quello è Venezia. Allora questo signore non è che sta facendo un grattacielo, lui sta facendo un grattacielo dalla cui stanza si può vedere Venezia. E quindi di fatto sta facendo un uso speculativo di una risorsa comune qual è il paesaggio. E questo è diffuso, questo è un punto massimo di ragionamento, però questa operazione è fortemente diffusa, sia di privati, ma anche spesso anche noi, che fanno un uso speculativo delle risorse. Il quarta causa che ci crea questa condizione di problematica, che abbiamo detto prima, è lo spreco. Noi facciamo uno spreco gigantesco di tanto, non solo lo spreco alimentare, ma in questo caso per esempio abbiamo uno spreco culturale e ambientale, questo polvere che dovete alzarsi, sono i resti dopo l'esplosione del velodromo di Roma, costruito nel 1968 per le Olimpiadi, praticamente mai utilizzato, e che una mattina di punto in bianco fu fatto saltare per farci un intervento speculativo, ovviamente edilizio, che però in realtà non si è mai fatto, e quindi al posto di questo luogo, di questo monumento, di questo interessante edificio, c'è adesso un pradone. In questo caso noi abbiamo fatto uno spreco, non solo per l'energia che era dentro questo velodromo, ma anche per il fatto, quindi uno spreco ambientale, ma anche per uno spreco culturale, perché comunque questa era una questione di architettura moderna che avremmo potuto ripristinare, usare e utilizzare. Andiamo adesso. Qual è l'altra causa? Ce l'abbiamo. E la finta ecologia. Noi abbiamo un grosso problema di comprensione tra di noi, e tante cose si vengono presentate come ecologiche, e in realtà non lo sono. In questo caso una delle più note, anche più semplici da capire, si tratta di due grattacere, che vengono a Milano, le conoscete, che si chiamano il bosco verticale. Adesso a livello ecologico, il bosco verticale non lo sarà mai. non solo, ma questo edificio consuma moltissima acqua, fitofarmaci e concimi per mantenere le piante al decimo, quindicissimo piano in dei vasi. Quindi di fatto non è un sistema a basso consumo energetico, e quindi per questo non è ecologico, ed è tutto artificiale. Allora, se questo progetto venisse presentato come un progetto bellino, divertente e piacevole, con gli alberi messi al decimo piano, noi non avremmo problemi, ci avremmo altri tipi di problemi, ma non questo. Se viene presentato come un edificio ecologico, lì è un problema grosso, non solo terminologico, ma di comprensione, proprio di che cosa sia l'ecologia. Andiamo adesso. Queste sono delle cause che ho individuato, ce ne saranno sicuramente delle altre. Di fatto, però noi sappiamo che in ragione di queste cause, il modello è insostenibile, consumo e degrado delle risorse. Allora uno si diceva bene, ma quali sono le scelte che noi, umanità, stiamo insieme facendo per affrontare questo tipo di problema? Vediamo un settore qualunque, l'agricoltura, ma questo potrebbe essere fatto per qualunque settore produttivo. La risposta che noi stiamo dando è quella di aumentare, attraverso l'industrializzazione e la tecnologia, la produzione per età. Ovvero, visto che ci manca l'alimentazione per tutto il pianeta, noi cerchiamo di migliorare la produzione per età. Andiamo a vedere, investendo in industrializzazione e in tecnologie. Però questa storia fa sì che da una parte noi abbiamo effettivamente una riduzione di ettaro, per cui nel 2016 bastavano, nel 1961 erano necessari 0,45 ettari per alimentare una persona, e nel 2016 0,22, quindi abbiamo dimezzato la superficie interessata. Però d'altra parte, andiamo appresso, per sostenere questo sistema abbiamo fatto degli impatti significativi, partendo solamente da quelli due, consumo di suolo e di acqua, quindi senza parlare del paesaggio o altre cose, ogni anno il mondo perde 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile, in ragione al sovrasfruttamento che viene fatto da quel modello di produzione. Ci abbiamo il 60% dei principali terreni agricoli in 11 paesi europei che contengono residui di pesticidi persistenti, per cui questi rimarranno non si sa per quanti anni, e ci abbiamo una serie di dati relativi all'aumento dei prodotti chimici immessi nel sistema naturale, 138 milioni di tonnellate annue, e più l'aumento dei terreni irrigui, che ci dà anche l'idea di quanta acqua noi impegniamo per la produzione dei nostri alimenti. Andiamo adesso. Quali sono gli effetti di questa roba? Oltre a questi effetti ambientali, c'è anche l'effetto sull'autonomia delle comunità, perché le concentrazioni delle produzioni e della distribuzione portano dai monopoli, c'è una centralizzazione dell'intermediazione della distribuzione, e diventano marginali i mercati locali e l'autoproduzione, e si allontano la popolazione dall'uso diretto delle risorse. Quindi il sistema che noi abbiamo adoperato, quello dell'agricoltura, che poi noi applichiamo anche in altri sistemi, non è poi quello che garantisce l'effettivo raggiungimento del superamento di quel problema che abbiamo detto all'inizio, di sovrasfruttamento delle risorse. Anche il Piano Nazionale di Resilienza, per capirci, prevede molta tecnologia ed è finanziato di fatto a permettere le stesse cose che facciamo noi, aumentando l'efficienza senza cambiamenti. Di fatto, su tutto il piano, non si domina mai la possibilità di ridurre le produzioni e di ridurre i consumi, che è un segnale, una scelta. Questa è la scelta che noi stiamo facendo a livello complessivo. A questo punto, noi abbiamo delle responsabilità individuali e delle responsabilità collettive, quindi dei governi, dell'amministrazione. Andiamo a vedere due casi, tanto per capire più o meno di che cosa stiamo parlando. Il primo caso, ai noi, è l'incendio delle foreste pluviali, in questo caso stiamo nell'Amazzone, stiamo nel 2019. La foreste pluviale, di fatto, assorbe il 10% della foresta pluviale amazzonica, assorbe il 10% delle emissioni annuali totali di CO2. Quindi, stando noi in queste condizioni, noi la foresta amazzonica la dovremmo venerare, non toccare, proteggerla in tutte le maniere, perché la più grossa strategia di riduzione delle emissioni è l'assorbimento della foresta pluviale amazzonica. Nonostante questa cosa, che dovrebbe essere di nostra consapevolezza, perché gli scienziati ne hanno parlato a lungo e con tantissime pubblicazioni in tutto il mondo, di fatto abbiamo perso, negli ultimi 40 anni, 800 mila chilometri quadrati di foresta pluviale. Tutto questo perché? Vedete, qui c'è un segno che differenzia le due parti. A destra c'è la foresta pluviale amazzonica, a sinistra dopo il disboscamento. Uno dice, perché disboschiamo? Andiamo a professare la prossima cosa. Noi disboschiamo, ecco, per allevare le mucche. Allevare le mucche, voi vedete pure i suoli come sono ridotti dopo che le mucchette hanno passato, perché come sapete tutti, i suoli della foresta amazzonica sono piuttosto aridi, quindi non sono molto ricchi. Nel momento in cui uno toglie la foresta, dopodiché si degradano rapidamente. L'abbiamo già vissuto, un animato grosso per il cacao, come questo negli anni 50, se disboscarono, misero il cacao e dopodiché si inaridì, dopo vent'anni hanno avuto problemi di aridità superficiale e di lavamento, perdere le poche suoli rimaste. Andiamo a vedere questa carne brasiliana doveva finire. Questa carne brasiliana doveva finire? 10 milioni di tonnellate anno di produzione ha superato gli Stati Uniti due anni fa l'esportazione della carne brasiliana, 120 mila tonnellate arriva in Europa, 20 mila tonnellate in Italia. Allora uno dice, ragazzi, ma è possibile che noi che vogliamo rimanere amici dei brasiliani non riusciamo a importare nessun'altra cosa che la carne dal Brasile? Forse se importassimo il caociu che si fa nella foresta amazonica uguale, però c'è bisogno della foresta, faremmo un piacere alla foresta amazonica, faremmo un piacere al Brasile perché gli compreremmo il caociu e non avremo il disboscamento della foresta stessa. Quindi ci sono delle responsabilità collettive importatori, ma anche noi che al banco del mercato non riusciamo a differenziare una carne della lattellina e una carne del Brasile. Andiamo a presa. Questa qui è la plastica, la plastica è uno dei più grossi problemi planetari, in cui ne parlate, questa è un'immagine, insomma, shock, perché infatti fa un po' in pressione. Andiamo a presa. Di plastica ne produciamo una quantità, 15 milioni di tonnellate nel 64, 310 milioni di tonnellate nel 2018. Per darci in idea, 330 miliardi di buste ogni anno, buste per la spesa, oppure sia 10 mila buste al secondo vengono consumate. Perfetto, noi ci sono poco. Però il 39,7% della plastica prodotta in Europa è destinata agli imballaggi monouso. E quindi è quello che vediamo, il pollo imballato, quando si va nel supermercato, la frutta. Questa roba però è disciplinata da una norma europea, quindi la comunità europea ha deciso che era così, perché poteva dare delle indicazioni, per esempio, di fare questi imballaggi con altri materiali, meno inquinanti, meno pericolosi, o se no, dire che si preferiva la linea dello sfuso e quindi finanziava lo sfuso piuttosto che finanziato in preimpacchettato. In questo caso, anche delle decisioni comuni, quindi delle amministrazioni, della comunità europea, i governi, e delle scelte individuali. Andiamo a testa. Quindi noi sembriamo, non sembriamo, siamo un po' attordi, un po' tonti, come si dice, rispetto al problema, perché abbiamo assunto, siamo consapevoli delle problematiche ambientali e sulle risorse, ma non abbiamo capito che fare. Questo sembrerebbe, o perlomeno, da quello che abbiamo visto prima, non siamo capaci di fare delle scelte differenti. Andiamo a presso. In effetti, quando vediamo le persone agire, spesso ci troviamo di fronte a queste cose. Per esempio, questa è la prima vera casa sul mare che abbiamo mai visto, infatti è sul mare, perché è un abuso, è evidente, sta sul temanio, sta in una zona di erosione. Quella a sinistra sono delle casi costruite vicino a Palermo. Questa in basso, per esempio, è una villetta, unifamiliare, però, insomma, questa villetta è una familiare che a caso mai avrà avuto pure un'approvazione da qualche distratto, diciamo, per un tipo disperato amministratore, c'ha di fatto ettari di roba, di parcheggi, guci, cose, non so, un abuso, una trasformazione del territorio troppo rilevante rispetto all'uso dell'abitazione stessa. Andiamo a presso. Però noi, come specie, siamo capaci di questo. Quindi questo è un alpeggio che è da 1500 anni che si pratica, forse tu mica, non ne ho contezza la scientifica da quanto tempo si pratica ogni alpeggio, è un luogo con dei prati in montagna dove c'è un numero di mucche. Queste mucche sono limitate, queste vacche, questi animali, perché l'allevatore sa perfettamente che se aumentasse il numero delle vacche quest'anno, l'anno prossimo avrebbe problemi di suolo perché le mucche mangiano l'erba, l'erba se non riesce a crescere rapidamente scopre i terreni, i terreni di lavano con le piogge, dato che il manto di terreno vegetale è molto basso, dopo due anni c'è di fatto un suolo più arido, cioè ti mancano i suoli per fare la vegetazione. E quindi lui si ha sempre preso le sue 10 mucche, 15 mucche, 20 mucche e l'attenuta, quindi lui come uomo e quindi noi come specie abbiamo la capacità di avere un rapporto equilibrato con le risorse. Andiamo a presto. E lo dimostriamo, non è che stiamo ancora a parare degli alpeggi, questo è Milano, sono le periferie milanesi dove i cittadini hanno recuperato delle cascine, fanno degli orti, fanno delle attività culturali, ma di esempi di questi ce ne possono essere centinaia e centinaia in Italia di comunità che dal basso hanno in qualche maniera occupato o utilizzato degli spazi che erano abbandonati per recuperarli a dei fini sociali. e poi queste occupazioni poi diventano sempre più disponibili a degli accordi comunali tant'è che a questo momento tutte le cascine di Milano sono state assegnate regolarmente a delle associazioni di cittadini che fanno questa roba. Quindi noi sappiamo percorrere la strada del riuso, sappiamo percorrere la strada della riduzione, sappiamo percorrere la strada della gestione ecologica delle risorse. Andiamo a presto. A questo punto noi dobbiamo capire però quali risorse ci servono sia noi che abbiamo capito che possiamo fare qualche cosa che abbiamo delle capacità tecniche come specie dobbiamo capire quali sono le risorse che a noi ci servono e come sfruttarle, come utilizzarle. Ne ha preso. Qui abbiamo due modelli un modello è quello che noi stiamo perseguendo quindi un modello economico il quale dice che qualunque materiale, merce, trasformazione il cui uso produca, approfitti è una risorsa. E noi però che cosa diciamo? Che a noi in realtà questo gioco ci interessa poco insomma a noi ci interessa che i materiali, le merci e le trasformazioni vengono fatte per cui ci servono e che non attino l'ambiente. Quindi ci sono due logiche differenti. Da una parte c'è un uso della risorsa che produce profitti indipendentemente dalla sua utilità e da qui anche la sovrapproduzione alimentare la sovrapproduzione di merci e invece da un'altra parte il nostro modello il modello auspicabile in termini anche di peso ecologico che dice ma io voglio le risorse mi servono però mi servono solo quello che mi serve davvero nelle dimensioni nelle quantità nelle localizzazioni in cui mi serve e in cui non ha altri ambienti. Nel modello perseguito preferibilmente le attività devono essere concentrate grandi quantità perché questo dà il margine economico o se no grandi margini o si è lusso una cosa ma così lussuosa che io dentro ci faccio l'80-90% di profilo. Invece quello che interesserebbe a noi sono attività diffuse di piccole dimensioni che ci sistemano questo mondo e che non concentrano le cose ma che rendono invece possibile l'accesso alle risorse a un numero più stesso di persone e la gestione diretta a un numero più stesso di gestione. Da una parte il modello perseguito preferisce il nuovo e in subordine il riciclo da un'altra parte noi si interessa del riuso perché di nuovo ce n'è tanta già nel mondo e quindi noi potremmo riutilizzare quello che c'è per ottenere delle cose migliori e successivamente il riciclo nel senso che il riciclo è la parte finale di un percorso in cui la riduzione e il riuso sono le due parti centrali mentre invece il modello esistente no. Tra l'altro ha bisogno di materiale ha bisogno di ricicliare perché il riciclo è attività produttiva consuma energia e produce altre cose. Poi ci sono diverse modalità di usare la risorsa questo per esempio è un campo fotovoltaico non è tra l'altro il più grande che c'è in Italia stiamo a Montalto di Castro sono 283 ettari tanto per avere un riferimento spaziale il principato di Monaco e 200 ettari è stato fatto da una società italiana poi dopo di che è stato venduto dalla ERG se voi vedete i talicci che ci sono la centrale come funziona si capisce che questo è un sistema centralizzato è di fatto monopolistico perché la ERG è di nuovo uno dei 6-7 gestori dell'energia planetaria quindi di fatto abbiamo un luogo di produzione concentrato delle reti e dei monopoli di energia andiamo a presso ci sono altre maniere per utilizzare però l'energia rinnovabile per eccellenza che è quella solare si mettono i fotovoltaici i pannelli fotovoltaici sui tetti delle case uno li dimensiona sulle sue necessità se c'è un sovrauso un sovraavanzo dell'energia lo rimette in rete diventa anche un piccolo imprenditore avendo un piccolo utile economico a questo punto l'impatto percettivo è molto minore la distribuzione fa sì che c'è un controllo diretto tra consumo e utilizzazione e mi sembra che è una cosa un po' migliore quindi a un certo punto ci troviamo nella necessità di capire quali siano le risorse sostenibili le sostenibili sono quelle che fanno meno impatto e quali sono queste roba che fanno meno impatto nell'ambiente nella società andiamo a presso la prima risorsa sostenibile di cui disponiamo sostenibile l'ho messo per intenderci è lo spreco è un ambito di lavoro e di miglioramento che è enorme gigantesco voi pensate solo uno dei tanti dati che ci sono a disposizione che a un certo punto di un animale macellato negli Stati Uniti il 60% si butta solo il 40% di un animale macellato arriva al consumatore si buttano vedete quante tonnellate di acqua di vegetali per fare la carne e poi di questa enorme quantità di carne il 60% viene buttata nel mondo includendo quelli che muoiono di fame e quelli che sono sottoalimentati noi buttiamo pro capite 121 kg di carne all'anno è spaventosa questa cosa qui c'è un ambito di lavoro per ridurre gli sprechi e quindi di far diventare un fattore negativo lo spreco un fattore positivo che sia una risorsa sostenibile che è gigantesca andiamo a presso il lusso il lusso è un'altra risorsa sostenibile che abbiamo questo è un signore che si chiama Paul Allen che è il cofondatore di Microsoft che ha questa barca chiamiamola barca lunga 126 metri immaginate che non è la più grande in questo momento ce ne sono almeno 12 se non sbaglio più lunga di questa qui che sono esistenti sono tutte banche banche private come quando uno va al mare e si prende il materassino lui prende questo per andare al mare ha 8 ponti 2 elicotteri 7 tender un grande SUV e poi 2 sommergibili non si sa poi un campo da basket è per cui è indispensabile per chiunque per un campo da basket tutta questa attrezzatura si muove a 29 forse questa è una risorsa per tutti perché non c'è nessuna ragione perché una persona singola possa fare una cooperazione di questo genere e qui non si tratta di fare la lotta ai ricchi si tratta di dire che c'è un limite per tutti andiamo adesso ma le risorse sostenibili sono il patrimonio culturale dimenticato in questo caso in un'immagine ma ce ne abbiamo tante in Italia di un ponte che sta in provincia di Siena sul Ponte Macereto questo qui è attribuito a Francesco di Giorgio Martini quindi non è neanche un ponte costruito da una comunità locale è costruito da un ingegnere che poi ha trasformato un ingegnere nel 1400 che faceva le fortificazioni come potete sapere e che sta trasformando l'ultimo arcone di questo ponte è crollato 10 anni fa e questo qui sta ancora così questa è una risorsa una risorsa per noi per la collettività culturale ma è anche una risorsa economica perché intorno a questo si possono inventare state, percorsi ragionamenti e neanche state non asfaltate percorsi quali sono le risorse sostenibili di cui disponiamo? gli edifici abbandonati qui ce ne abbiamo due a destra è un edificio degli anni 60 immagino in cemento armato brutto però immaginate che qui dentro ci potrebbero andare un'officina meccanica per un ragazzo giovane che vuole mettere un'attività ci potrebbe essere un laboratorio di sartoria ci potrebbero essere delle abitazioni per anziani è una risorsa e questo edificio al suo interno c'è energia grigia che noi abbiamo innesso ha già fatto tutti gli impatti ambientali potrebbe essere utilizzato o se no questo qui a sinistra questo qui a sinistra è il San Giacomo che sta al centro di Roma è stato abbandonato era un ospedale è stato abbandonato nel 2008 dal 2008 il comune di Roma paga gli affitti e non è utilizzato questo è un edificio che ha un'importanza non solo storico-culturale ma sociale gigantesca e sta lì questa è una risorsa sostenibile intervenendo su questo noi gli impatti non ne facciamo ne facciamo pochissimo e quindi di fatto è sostenibile andiamo presto questi sono i piccoli insediamenti nell'Atlante che hanno fatto sui piccoli borghi a fantasma sono 1500 in Italia ma di borghi abbandonati o sottutilizzati ce ne sono migliaia e migliaia in questo caso il RV di Vecchia siamo in Calabria un posto affascinante meraviglioso che è stato abbandonato a seguito di un obbligo normativo perché ci sono delle frane però si credono pure se lo vedete però noi sappiamo perfettamente che ci sono tante modalità di poter vivere in dei posti anche in presenza di frane e comunque questa è una risorsa perché ci può essere fatto del turismo ci possono andare ad abitare altre persone andiamo appresso ed infine le risorse sostenibili sono anche il territorio depredato per esempio questa è un'area interconnessa tra le linee ferroviare è rimasta così in colta ma qui si potrebbe fare qualunque cosa si potrebbero piantare degli alberi si potrebbero quindi assorbire la CO2 e messare le nostre cose si potrebbero fare anche delle coltivazioni bisogna vedere i suoli come stanno e di questo ce ne abbiamo milioni di ettari in Italia di queste aree di questo tipo andiamo appresso ma infine credo che sia infine non so comunque mettiamoci l'infine ci abbiamo anche una risorsa che è gigantesca che è il paesaggio della natura ma anche quello meno attrattivo quindi non pensiamo al paesaggio di Urbino o della cascata delle marmore pensiamo a paesaggi come questo anche percorsi di incendi quindi anche un po' dei padati con tagli a raso vedete ma questo è spettacolare su questa roba ci si può fare il video a livello economico e sociale su un paesaggio di questo genere e non solo turismo ma anche attività di produzione e questa è una risorsa perché lavorare su questo non porta in parte anzi forse le riduce andiamo a tre ok quindi l'uso delle risorse sostenibili che abbiamo detto prima impedisce a noi i consumi riduce il peso ambientale della specie opera per l'uso equo e sociale delle risorse conserva l'ambiente il patrimonio culturale da un significato corretto al riciclo come ultimo stadio di un percorso di vista andiamo a presto e quindi dobbiamo mettere una diversa maniera nell'approcciare l'esistente aumentare la creatività delle nostre proposte cercare di vedere le cose in maniera differente da come sono state viste e si vedono dal modello praticato andiamo a vedere questo qua io ho messo a questa immagine perché per me è stata interessante raduna un ragionamento questo qui è Castaway lui Tom Maz che è caduto da un aereo in questo film in un film caduto dall'aereo si trova su un'isola deserta poveraccio poveraccio a un certo punto non sa che fare non è capace arrivano delle scatole che galleggiano dalla caduta che stavano sull'aereo lui guarda ci ammazza ci sarà della roba interessantissima apre e ci trova dei pattini da ghiaccio un pallone dei nastri delle videocassette e un tutù da danza lui guarda sta roba la butta e se ne va poi dopo di che ci ripensa e dice oh meglio da qua ci posso ricavare delle cose ecco e questo io da qua ci posso ricavare delle cose che la nostra stessa testa dovrebbe approcciare come sistema operativo in questo caso poi ci sarà delle asce coltù ci farà le vetri da pesca e via discorrendo ma questo è l'approccio l'approccio del sistema chiuso dove l'energia è limitata dove ci sono dei limiti dati dal sistema naturale e dentro il quale noi con un nuovo approccio possiamo trovare nuove risorse che sono le stesse senza fare impatti e infatti andiamo a vedere questi signori si sono messi hanno fatto coltivare il loro orto perché pensi hanno tirato fuori da questo orticello in 340 metri quadrati 2.700 kg di cibo quello che è necessario per vivere di una persona invece la FAO ci dice oggi che ci vogliono 2.000 metri quadrati pro capite nonostante per dare l'alimentazione alla persona nonostante tutto il miglioramento che abbiamo visto nell'immagine una quindicina di immagini fa ma certo povera FAO perché la FAO sta parlando del sistema di produzione industriale che nella filiera produttiva ha degli sprechi giganteschi che butta il materiale mentre questi hanno un rapporto diretto con la risorsa e quindi tutto quello che viene coltivato viene utilizzato allora non è un problema di aumentare la produttività direi carissima FAO ma forse è un problema di cambiare i modelli di produzione e di distribuzione del cibo e quindi come abbiamo fatto con Tom Hanks guardare l'oggetto da un'altra parte andiamo a presso e questo qui è il nostro edificio di prima adesso questa casa sulla destra è una casa che ha del verde intorno però c'è un verde diverso questo verde è dentro terra non ha bisogno di essere innaffiato perché sta dentro terra e al terzo quarto piano di fatto porta il verde quindi se l'obiettivo era quello di fare un edificio col verde c'era già il modello che era qua queste due cose non stanno lontani e sono vicini così o poco più quindi stanno nello stesso quartiere quindi bastava camminare un pochettino certo se uno voleva fare il palazzo prestigioso a 16.000 euro al metro quadrato doveva fare la torre che abbiamo fatto se invece voleva fare un'abitazione per un uomo normale che forse ha elevato la efficienza ambientale e abbassi i consumi energetici avrebbe dovuto fare quest'altro andiamo adesso e quando si parla di città di fatto noi stiamo parlando di un modello urbano che noi non governiamo ma che ha già le risoluzioni perché tutti gli architetti che si interessano di abbassare l'impatto ambientale nel mondo in cui siamo in Germania stanno lavorando sui eventi ecologici che sono dei villaggi ossia spezzettare a frantumare le città fare dei piccoli quartieri all'interno dei quali si è una chiusura dei cichi quello dell'acqua quello della vegetazione che fa CO2 per la vita quello dell'alimentazione perché ci possono essere degli orti e in qualche maniera riduce in questa maniera e quello del recupero dell'acqua e refla vedete qui c'è un plan del lago che in realtà è un impianto di fido depurazione quindi di fatto si chiudono i cichi perché questa è la dimensione in cui si riescono a chiudere i cichi poi di questi ce ne possono avere anche 200 vicino il problema è che ciascuno di questi ha una certa autonomia ambientale ma anche sociale perché le persone si conoscono e formano delle comunità andiamo a presto ma noi dicevi queste cose sono bellissime queste cose si fanno normalmente anche in Italia ragazzi qui c'è il lago di Penne in Abruzzo dove c'è una cooperativa porgestra che è nata intorno a questo lago con un lago artificiale e fa visite guidate di questo lago perché ci sono poi degli animali e delle altre cose però contemporaneamente ha fatto una fallegnameria e inoltre ha cominciato a produrre delle tipologie di farro che sono adesso le distribuisce in tutta l'Italia centrale nei supermercati quindi ci sono avuta nel massimo 35 dipendenti questa cooperativa ed è nata intorno ad un pantanazzo nato da una o da un antipi artificiale adesso vedete Badolato Badolato è stato un posto in Calabria che è stato abbandonato per anni a un certo punto delle persone hanno cominciato a riaggiustare le case gli operatori locali hanno cominciato a mettere il piccolo discorante altre cose oggi non si fa più il passeggio lo struscio a Badolato Marina che sta in basso dove si passa con le macchine se zona c'è tutte queste case degli anni 60-70 ma lo struscio viene fatto solo perché c'è più fresco c'è più silenzio la gente sta meglio parla beve sta tranquillo e sotto che cos'è la via francigena ma la via francigena che cos'era? era una cosa ma 50 anni fa non era nulla erano tante straduzelle messe disordinatamente sul nostro territorio e quello che l'ha fatto diventare la via francigena è il nostro no no il progetto che c'è stato intorno un progetto che ha fatto riflettere delle persone che su una risorsa che già c'era perché le strade già c'erano tutte gli alberi c'erano il paesaggio c'era si è inventata una cosa che l'ha messa a sistema ed è diventata una risorsa andiamo presto è difficile da fare queste cose ma noi le facciamo in Italia nostra le fa questo è l'eremo di Santo Spirito ma ieri dove noi abbiamo che noi abbiamo preso in gestione sei anni fa abbiamo formato una cooperativa di ragazzi locali abbiamo cominciato a fiare le attività siamo passati a 18.000 visitatori l'anno ce ne siamo andati perché non siamo un soggetto gestore ma siamo un soggetto propositore sociale i ragazzi continuano a gestire questa cosa alla grande e noi abbiamo portato alla salvaguardia di questo bene facendo anche col comune due restauro due lotti di restauro complessivo e lo stesso che stiamo facendo a bagni di triolo per di triolo in questo caso con un finanziamento privato significativo dove non solo si fanno le opere di restauro e questo poi lo vedremo negli interventi più specifici dei prossimi incontri ma dove abbiamo messo su un rapporto così simbiotico con le comunità locali che ha permesso di fare questo progetto in totale partecipazione delle comunità stesse andiamo a presto ultimo credo di slide che volevo presentare era questa questo è un esempio secondo me massimo di che cosa vuol dire guardare con un altro occhio il mondo e trovare le risorse dove apparentemente c'è solamente scarti o dimenticanze questo qui è una fabbrica che si chiama Nestab che si chiama Snia produceva chinga di base o filati o altre cose di questo genere stava dentro Roma praticamente negli anni 50-60 è stata abbandonata ed è rimasta questo posto qua a un certo punto il comune di Roma sensibile come spesso tanti comuni alle proposte di vivo edilizio ha dato una concessione a un signore per fare un supermercato il signore ha cominciato a scavare scava scava questo è l'edificio qui in alto a sinistra si vede l'edificio e anche qui sono i tralicci dell'edificio il telaio ha cominciato a scavare per fare i parcheggi in un certo punto ma che uscita dell'acqua ha detto oh boi boi uscita dell'acqua ha cominciato a prendere delle pompe e di notte pompava via l'acqua gli abitanti del quartiere vedevano tutte le strade bagnate non riuscivano a capire non avendo più perché fossero bagnate poi il giorno chiudeva per non farsi vedere alla fine ha dovuto cedere cioè non era affatto l'acqua che usciva fuori era di più e si è formato questo lago a parte che il signor il costruttore come spesso avviene aveva un po' superficializzato il suo rapporto con la natura e quindi e manco con la toponomastica come si diceva prima perché questo luogo si chiama acqua bullicante era una sorgente utilizzata dai romani come acqua per bere e quindi è noto acqua bullicante già da un effetto sulla quantità che può uscire e infatti è uscito e si è formato questo lago a questo punto gli abitanti della zona hanno occupato hanno fatto un macello non solo del lago ma dell'intorno l'intorno c'è stata a questo punto c'è in un vecchio edificio una biblioteca comunale molto carina c'è un centro sociale che ha attività sociali appunto però che ha trovato un accordo con il comune e qui hanno cominciato a farci le gite il sabato e la domenica con le canone alla fine si è stato fatto un percorso per far diventare questo un luogo tutelato ed è diventato un monumento regionale naturale e regionale questa era una pozza ragazzi e quindi questo però vuol dire come si può guardare una pozza con altri occhi e farla diventare una risorsa per una comunità io finisco grazie professor Paolella c'era una mano alzata prima io vedo il corrispondente ecco maurizio quindi lascio la parola maurizio e eventualmente la domanda che volevo fare la faccio dopo prego maurizio si salve avevo già alzato la mano di ma poi ho avuto problemi e quindi mi sono scollegato la mia domanda era sul progetto che stanno facendo in Germania quello della chiusura dei cicli che cosa si intende con chiusura dei cicli si intende l'azionamento dell'acqua tipo oppure appunto qualcos'altro rispondo subito gloria sì direi che forse è meglio rispondere a una domanda per volta grazie no non si intende la chiusura dei cicli è questo noi sappiamo che con le nostre attività noi interrompiamo i cicli naturali ossia l'acqua piove ti dico uno semplice per capire se l'acqua piove scende per i fiumi fiumi vanno al mare evaporazione acqua piove ed è un ciclo ciclo dell'acqua noi interveniamo dentro questo ciclo dell'acqua e lo modifichiamo lo modifichiamo o prendendo dell'acqua e spostandola utilizzandola e spostandola da altre parti o trasformando l'essenza dell'acqua o sia inquinandola quando si parla di insediamenti c'è un problema appunto per ridurre gli effetti negativi quindi l'impatto dell'insediamento sulle risorse e il problema è quello di ridurre il carico diciamo inquinante alterante delle risorse stesse e quindi di cercare di chiudere i cicli come si dice all'interno dell'insediamento stesso per cui per esempio in uno di questi villaggi ecologici che abbiamo detto piove anzi no viene utilizzata l'acqua in cucina l'acqua in cucina viene filtrata c'è un impianto di biodecurazione e quindi esce quando esce quest'acqua viene casomai utilizzata o per acqua non potabile ma all'interno delle abitazioni o per innaffiare delle piante e quindi si chiude il ciclo dell'acqua che viene depurata e riutilizzata all'interno dello stesso insediamento e così per esempio con i rifiuti all'aumento del compostaggio dopo la raccolta differenziata si aumenta il compostaggio e quindi si cerca di aumentare la possibilità che i rifiuti diventano poi alimentazione per le piante questo da noi se uno sta in un condominio urbano è difficilissimo perché alla fine devi prendere questo materiale da compostare e darlo ai servizi di raccolta dei rifiuti che poi fanno altre cose mentre in un posto dove c'è un po' di terra intorno si può fare il compostaggio questo pure per attivizzazione tipo l'energia elettrica l'energia elettrica tendenzialmente questi sono luoghi in autoproduzione quindi si fa un'operazione sull'insediamento che aumenta la capacità l'efficienza energetica dell'edificio quindi si riducono le distrezioni termiche e poi l'ultima frazione che è quella che serve si fa con il fotovoltaico poi c'è sempre il solare per l'acqua calda e fredda quindi di fatto si riduce il consumo di energia dell'insediamento queste cose però hanno bisogno di un po' di spazio nel senso che non tutto si può fare in un condominio e né si può fare da solo bisogna fare in gruppetti viene meglio se si fa in quartieri e se si fa in quartieri dove c'è un po' di spazio perché poi per fare un tanto di fredda depurazione bisogna avere lo spazio per farlo per fare il compostaggio ci vuole lo spazio per fare il recupero diciamo delle emissioni di CO2 ci vogliono gli alberi ci vuole un po' di spazio e quindi la dimensione che è stata individuata dagli storiosi dagli scienziati e dai progettisti è stata quella del piccolo insediamento che poi si può aggregare con tante altre però ognuno di questi ha una sua autonomia questo è appunto un progetto prova o si sta già adoperando gli autoperanti riattiva audio ok perfetto allora attacco il telecom scusate potrete chiudere cortesemente Maurizio di questi progetti ce ne sono tanti in Germania sono stati fatti tanti Tubinga è una delle città in cui ci sono più quartieri ecologici ci sono degli architetti specializzati in questo c'è abbastanza non è solo letteratura quindi è già in esecuzione non è un altro non è proprio alcuni di questi quartieri sono funzionati negli anni 70 80 negli Stati Uniti ce ne sono diversi ce ne sono parecchi quelli pubblici sono molto fuori d'Italia alcuni anche in Italia a parte da però in autocostruzione da piccole comunità quelli l'intervento pubblico di questo tipo più sviluppati sono in Germania scusate mi prendo le pochette sì io volevo lasciare la parola a Mariotto che voleva fare una domanda chiedo cortesemente a chi non sta parlando di chiudere il microfono altrimenti abbiamo diversi problemi di audio grazie ma volevo innanzitutto complimentarmi per l'esauriente diciamo così mole di informazioni interessanti che dovrebbero essere diciamo così il nostro bagaglio da portarci quando si va a conferire con gli assessori gli amministratori pubblici perché queste tematiche io mi ricordo che erano molto più sentite negli anni 80 io con altri amici artigiani e architetti bio della provincia di Brescia girevamo per conferenze grazie alla presenza di una cooperativa di alimenti bio che faceva da mazza da tamburo risonanza verso queste tematiche e mi ricordo che andavamo in giro per la provincia organizzando questi corsi che gli amministratori ben apprezzavano ecco solo che adesso il tema del piccolo e bello di Schumacher è assai trascurato perché nella provincia di Mantua in quel di Suzzara quattro anni fa l'amministrazione fece una proposta di autocostruzione metteva a disposizione tutto fece un bando di autocostruzione per case per liberi cittadini e andò deserto e quindi questo demoralizzante e quindi queste sono diciamo così sono spunti importantissimi da tenere presenti come oro colato e da diffondere ovunque insomma nelle scuole e negli amministrazioni insomma ecco perché il tema del risparmio energetico ha rovinato tutto perché quando si parla di ecologia si parla solo di pannelli solari e di materiale di coibentazione ricavato dal petrolio ma come? utilizziamo i derivati del petrolio per isolare dal petrolio per risparmiare petrolio quindi una sensibilità verso queste tematiche che deve essere ricostruita ripresa rigenerata e non certo con le linee guida di questo governo che sta facendo della rigenerazione urbana una questione tecnologica negativa per la salute dei cittadini efficienza energetica sicuramente è un tema che ha interessato tutto il mondo produttivo e progettuale italiano architetti ingegneri geometri e imprese perché l'efficienza energetica di fatto non prevede una riduzione non prevede una modificazione dei percorsi produttivi e solamente prevede l'aumento dell'efficienza attraverso i materiali che come dicevi possono essere anche materiali fortemente inquinanti e noi abbiamo un po' perso questo ragionamento nel senso che io sono molto contento che ci sia una così elevata sensibilità per cui che posso dire quando si è parlato della plastica prima della crisi pandemica nel giro di un anno e mezzo si era arrivata ad una norma che riduceva la plastica perché a un certo punto c'è stato un sentire comune con questa plastica che stava nel mare e via discorrendo che aveva fatto una pressione forte sui decisori quindi da una parte abbiamo questa reattività forte e interessante che negli anni 70 80 non c'era però da un'altra parte sicuramente sono un po' appannati diciamo le motivazioni principali e i modelli principali di riferimento perché in tutto questo numero di persone poi in realtà c'era tanta gente che si comporta in maniera molto migliore però spessissimo c'è tantissima gente che ne prende solamente alcune delle forme e non tutte questo però dipende anche da noi dell'associazionismo perché in realtà l'associazionismo in questi ultimi anni su questi temi come su tanti temi è stato meno incisivo di quanto lo fosse in passato e quindi noi come associazione secondo me abbiamo questo compito nel senso non noi come Italia Nostra che ce l'abbiamo ben precisi ma in generale l'associazionismo è quello che produce idee è quello che stimola la realizzazione di idee è quello che fa pressione che aiuta i cittadini a non sentirsi soli e a lavorare insieme ecco tutto l'associazionismo in Italia ha avuto un po' di diciamo involuzione su queste su questi ma come su tanti altri tanti altri e quindi secondo me rispetta anche a noi individualmente e collettivamente di ridare un po' di l'infravitale a questa società spesso distratta o affaticata ecco Silvia Brentegani scusate ma scritto incontroluce salve buongiorno buon pomeriggio a tutti e al professor Paola volevo sapere se possiamo riflettere non so se c'è un qualche dato che ci possa far capire quanto questa volontà che i singoli o che appunto i gruppi diciamo ecco attivi e sensibili verso il paesaggio hanno nel recupero nel riuso quanto questo si può scontrare con dei progetti politici di riqualificazione o comunque di prospettiva futura delle città che abitiamo delle zone che abitiamo quanto questo incide cioè il fatto che ci siano o non ci siano alcuni progetti o che questi progetti vadano in una direzione esattamente contraria a quella che possiamo vedere noi quanto può incidere questo ne lo dico perché abito a Venezia proprio rimetto il centro storico e lì ci sono varie problematiche insomma avrei altre considerazioni da fare su quello che aveva detto nel polo di Marghera dove appunto avrebbe dovuto essere costruita quella torre di poi comunque il progetto sarebbe stato anche diverso rispetto a quello anche che è stato fatto vedere ma comunque sì si aprirebbe tutto un capitolo e no a me è bastato intanto capire la risposta avere una risposta insomma che faccio rispondo singolarmente o ma sì forse meglio no? sì sicuramente c'è ogni tanto dei contrasti forti tra quelle che sono le esigenze o le richieste dei cittadini da quelle che sono le idee e le programmazioni comunali dell'amministrazione comunale questo ovviamente si riduce quando l'amministrazione comunale sente i cittadini ossia è più vicino ai cittadini più è lontana più è fa le proprie scelte all'interno delle proprie delle mura dei propri uffici o troppo sensibile ad alcuni attori principali che sul dell'edilizia certamente c'è più caso che questo confronto ci sia noi abbiamo dei cittadini che sicuramente non hanno delle capacità tecniche evolute tant'è che se noi andiamo a vedere quello che succede in Italia quando i gruppi cercano di intervenire parlo per esempio del cinema america a Roma parlo di Macau a Milano dove ci sono edifici abbandonati che si tentano di riattivare tendenzialmente se uno va a vedere poi da chi sono composti questi cittadini in mezzo ci trova architetti filosofi sociologi perché poi in realtà anche noi facciamo parte di questa società e quindi associazioni secondo me il distacco maggiore è quando gli interessi o comunque la politica delle amministrazioni non tiene in conto di quello dei cittadini però abbiamo tanti livelli di interazione alcune volte sono fortemente conflittuali alcune volte non lo sono per esempio quello che abbiamo fatto vedere prima il lago dentro quel terreno che è stato conservato per volontà dei cittadini contro la volontà dell'amministrazione che voleva costruirci in questo momento c'è una biblioteca comunale c'è un centro sociale che fa servizi per i cittadini e c'è il lago perché poi alla fine si sono riconfigurate insieme queste robe o se no c'è un soggetto che conosco e che sono degli amici che sono fondamentali culturali di Bologna che hanno incominciato a fare le occupazioni delle fabbriche negli anni 90 per mettere attività sociali in fabbriche abbandonate e oggi sono consulenti del comune per cercare delle soluzioni in fabbriche abbandonate che non si sanno come recuperare in realtà è quello dove c'è anche la forza delle associazioni perché le associazioni hanno quella capacità di parlare con i cittadini e di parlare con le amministrazioni e quindi possono diventare proprio il motore il volano la chiave di volta di queste operazioni in cui dato che le associazioni sono fatte dai cittadini insomma c'è una capacità di trovare soluzioni insieme non di mediare di trovare soluzioni insieme abbiamo risposto più o meno allora adesso Andrea ci sono diverse domande quindi vi chiedo di essere anche abbastanza breve Andrea Andrea sarei io non so se c'è un altro Andrea chiamato in casa sì immagino di sì perché io vedo il nome che compare come siete entrati l'acqua bulicante dopo diciamo mille anni che la città pensava di aver cancellato ha ripreso il suo spazio ha aspettato ha trovato la prima occasione e ha ripreso il suo spazio ma quante bellezze non soltanto naturalistiche ci sono nelle più brutte periferie romane e in pochi lo sappiamo siti archeologici importanti fondamentali si può ripartire da questo per ricostruire una centralità delle periferie si dice sempre che Roma nasconde nei magazzini in malomodo delle bellezze culturali un patrimonio culturale che potrebbe riempire i musei del mondo perché non cominciamo a decentrare la cultura e ne facciamo occasione di riqualificazione delle periferie creando dei percorsi diciamo tematici relativi a quella che è stata la storia sepolta di quelle zone pensi che questo sia possibile come motore di riqualificazione delle periferie si in realtà poi è l'oggetto di questo progetto che stiamo avviando nel senso che il primo passaggio è quello della consapevolezza quindi i cittadini prendono la consapevolezza delle risorse che hanno sicuramente un'area archeologica ha un valore sia dal punto di vista storico-culturale ma anche un valore sociale perché è il luogo di identificazione e ritorno a quello che diceva Minutile la casa delle figlie che gli chiedono dove è nato ed è un luogo di aggregazione delle comunità identificazione ed aggregazione e proprio questo è il ragionamento certo se uno dovesse partire come si diceva prima da un recupero delle periferie come di qualunque altro territorio io partirei dall'esistente e non partirei dall'abbattimento per capirsi degli edifici con la sostituzione perché di risorse ce ne sono e come dicevi te ci sono anche delle risorse naturali significative oltre che quelle culturali immaginiamo chi fossi se parliamo di Roma o che ne so gli orti e i giardini di Napoli sulle colline napoletane sono tutti punti di partenza dove e come avviene spessissimo quando le cose vengono fatte dal passo si aggregano i cittadini per la conservazione per la riqualificazione sono le attività di fatto che anche noi come in Italia Nostra stiamo facendo da 67 quest'anno anni grazie mi scuso il professor Masullo ma io leggo il nome che c'è scritto e quindi per me era Andrea adesso tutti l'abbiamo riconosciuto e poi farà l'intervento più tardi ma io mi chiamo Andrea non mi chiamo il professor Masullo va bene d'accordo adesso lascio la parola anche qui il nome è scritto abbastanza strano Schermi Giuseppe Jessica ti lascio per ultima Sì Giuseppe Schermi sì ma io diciamo che non vorrei che passasse un po' sotto silenzio qualcosa che a me ha fatto brillare gli occhi quando l'ho sentita però molto spesso non c'è appunto si parlava di consapevolezza e certi messaggi che sono stati molto forti ho apprezzato tantissimo questo intervento perché ha detto delle cose molto chiare che però certe volte tutti quanti noi abbiamo difficoltà ad accettare allora è possibile stressare certi argomenti affinché anche all'interno del gruppo di Italia Nostra questi argomenti siano fortemente sentiti perché non si può parlare di overshoot day e poi avere dei comportamenti da chi predica bene ma razzola male noi abbiamo sentito quant'è importante io sono diventato si definisco quasi vegano semplicemente per aver fatto le connessioni tra il covid e il consumo di suolo per aver approfondito appunto che gran parte della cultura intensiva dell'agricoltura quindi che toglie spazio e suolo alla biodiversità non è per l'uso umano ma è per l'uso zootecnico ad Augusta perché faccio parte della sezione di Augusta per esempio c'era un vecchio progetto da me presentato e che con questi discorsi cadrebbe a pennello di un ex macello nel pieno centro della città abbandonato ormai in totale degrado ma con degli elementi architettonici di pregio finché non cadranno anche questi come molte altre cose su cui si potrebbe fare un orto sociale urbano per esempio e che quindi avrebbe un doppio risvolto sia sociale che di recupero tante cose invece si stendono ancora anche all'interno del nostro gruppo a farle percepire il danno che fa l'allevamento intensivo ed estensivo quale prima causa prima causa dei cambiamenti globali o per esempio la follia dell'auto elettrica con costi di produzione e di rete e economico finanziari anche per chi poi li sopporta di fronte a semplicemente si parlava del riuso il riacquisto di un'autosata cosa possiamo fare ecco la mia domanda cosa possiamo fare affinché questi temi così da pugno sullo stomaco della gente perché va a toccare i nostri vizi le nostre comuni le vite comuni tutti i giorni ci rende responsabili del cambiamento climatico che sembra una cosa così grande cosa possiamo fare affinché almeno all'interno di Italia Nostra queste cose siano la priorità in modo che siamo anche esempio di ciò che andiamo a dire grazie della domanda io credo che noi dobbiamo rappresentare con il nostro comportamento modalità di vita differenti questo è il più grosso segnale che noi possiamo dare e poi parlare sensibilizzare discutere non obbligare non credo che si riesca a fare nulla di buono obbligando le persone a fare delle cose però certamente è il nostro portato culturale che può cambiare le cose ricordiamoci io sono grandino ma credo che siamo più o meno coetane forse un po' più grande negli anni 60 di ambiente non se ne parlava negli anni 60 c'erano dei rapporti sociali molto differenti da questi e sicuramente la trasformazione culturale di 60 e post 60 che è stata grossa a tutti gli effetti non è stata fatta dalla maggioranza delle persone e l'atteggiamento iniziale che era un atteggiamento non impositivo è sicuramente quello che ha cambiato i nostri costumi di più sia su tanti aspetti quindi credo che proprio noi abbiamo questo compito questa possibilità di essere quelle che siamo e di dimostrare l'incongruità degli altri intanto comportarci adeguatamente eticamente rispetto alle problematiche ambientali ti dico solo questo che la prima volta sono salito su un SUV tanti anni fa era di un ambientalista di quelli d'acciaio perché io sono entrato su questo SUV e ho fatto senti ma che ti sei comprato tanto per capire non dico che non aveva la consapevolezza però ci ha pensato su sta roba perché tante persone anche se sono buone lui diceva lo prendo perché vado in campagna io sono ambientalista vado a vedere gli animali ho capito però ti rendi conto che ti porti due tonnellate di roba presso con un motore da 3000 2008 decilindrata quindi questo secondo me è il nostro portato culturale quello di stimolare evidenziare con serenità sempre con un sorriso ed essere poi coerenti come stai facendo tu rispetto alle riflessioni che hai fatto sull'alimentazione per esempio ok spero di risposta adesso prima di lasciare la parola a Jessica volevo fare un commento simpatico io non mangio la carne brasiliana prometto l'ho mangiata in altri tempi ma non la mangerò mai più però non fatemi mangiare il cauccio perché credo che sia un attimo di testa lascio la parola a Jessica e beh vabbè grazie intanto di averci dato questa opportunità ma più che altro ormai le risposte mi sono arrivate essendo l'ultima volevo invece sottolineare una cosa che quello che è emerso anche grazie ad Adriano e i relatori precedenti è il termine appunto conoscenza penso che uno dei problemi invece sia la non conoscenza ecco perché volevo chiedere ad Adriano io mi sono attivata stimolata stimolato ulteriormente da questo progetto per portare avanti anche con il settore edu dei PCTO che mettono praticamente in relazione la tutela la riqualificazione l'importanza del bene comune quindi del bene condiviso e la cosa che mi è piaciuta di più è che voi lo avete messo in evidenza più volte relazionandolo con il paesaggio che è la sintesi visibile appunto della relazione dell'uomo con l'ambiente perché la mia sezione ha deciso anche di fare queste proposte perché penso che il danno appunto come detto tu in parte è difficile cambiare la mentalità degli adulti è difficile nel non sradicare in poche parole dei preconcetti ma sicuramente se noi iniziamo ad agire con i giovani con partendo proprio dalle basi possiamo dire che in parte abbiamo delle speranze io volevo appunto leggere mentre voi parlavate i ragazzi mi hanno scritto ed è questa frase conoscere qualcosa significa imparare ad amarla così da proteggerla e poterla trasmettere questo è il nostro motto per cui penso e volevo sapere se tu eri d'accordo che dobbiamo partire proprio da questo dalla conoscenza in modo tale da ricreare quel legame affettivo con il territorio con il nostro territorio ognuno e quindi con l'Italia e quindi con il mondo tutto perché penso che uno dei problemi di oggi è non so per quale motivo non trasmettere più nulla riguardo al territorio in cui si vive riguardo alla relazione e ritorno al concetto di paesaggio grazie sì Jessica tu hai individuato un punto di riflessione piuttosto forte nel senso che sicuramente l'educazione la formazione la divulgazione delle conoscenze in particolar modo sui ragazzi e giovani è fondamentale io però continuerei a lavorare anche sui vecchi anche su quelli un po' i cattivelli insomma nel senso che anche con Gloria noi abbiamo fatto un'esperienza due anni fa in un laboratorio di progettazione in un paese terremotato dell'Abruzzo e c'erano due individui vi assicuro terrificanti insomma ecco per capire insomma un armadio a quattro ante tutto tatuato con lo subardo feroce e una sciroccata che stava tutto il tempo a cellulare alla fine si sono dimostrati ci è voluto un po' però si sono dimostrati pienissimi di creatività di fantasia e anche d'affetto d'amore nei nostri confronti ma certo ci mancherà e quindi noi dobbiamo affiancare ad un'operazione diciamo sui ragazzi sui giovani sicuramente ma anche un po' sui trucidi perché poi non si sa mai dal trucido che cosa è e poi abbandonarli è pericolosissimo perché poi ancora di più entrano in queste enclavi che poi sono difficili da smontare ti ringrazio comunque della domanda perché comunque è un punto fondamentale di ragionamento infatti io volevo ringraziare voi per questa opportunità perché ho detto è difficile da sradicare i preconcetti soprattutto quando devo dire la verità spesso vengono inculcati faccio un esempio banale Augusto è conosciuta per la zona industriale ma ha un patrimonio posso usare un termine culturale storico paesaggistico che spesso non viene messo in evidenza negli anni passati volutamente ora devo dire che c'è Italia Rostra che sta veramente facendo affiorare questo quindi noi continuiamo a lavorare però dobbiamo lavorare ancora di più partendo ecco proprio dall'EPA quindi questa idea del PCTO questo volevo dire che può essere un'idea che poi può andare bene per tutti secondo te non pensi che sia ulteriormente stimolante per dimostrare anche come noi possiamo rinvestire anche in quel concetto che è lo sviluppo sostenibile cioè come il patrimonio culturale artistica può essere riutilizzato sicuramente tutti gli strumenti che noi possiamo utilizzare debbano essere possiamo utilizzarli e questo è uno di quelli che potrebbe portare grandi risultati l'importante è che noi affrontiamo queste strumentazioni con la nostra coerenza rispetto ai nostri principi l'eticità che è propria individualmente collettivamente della nostra azione perché alcune strumentazioni poi sono non dico il PCTO ma in generale sono poi finalizzate a degli obiettivi che spesso non sono i nostri però noi possiamo entrare nei percorsi decisionali possiamo partecipare a strumentazioni altre mantenendo la nostra distanza se c'è distanza e vicinanza se c'è vicinanza con la nostra identità associativa e personale perché è il valore aggiunto di cui parlavamo prima con Giuseppe allora io ringrazio il professor Paola ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.